Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella aromatizzata. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo 00, scorza di limone, uova, vanillina, zucchero di canna, olio di semi di arachidi, mela, banana, carote, lievito per dolci vanigliato, sale, cannella e aroma d'arancia. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e la scorza di limone ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte senza lavare il boccale mettere le mele e le carote ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la banana e l'olio ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 7. riunire tutto sul fondo del boccale. aggiungere lo zucchero, le uova, il sale, l'aroma d'arancia, la vanillina, e la cannella ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4. riunire sul fondo del boccale con la spatola. aggiungere la farina, il lievito ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5. versare il composto in uno stampa a ciambella da 22 cm di diametro. cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-55 minuti. la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. ciambella aromatizzata. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! grazie a tutti!